Presento sono Franco Malfatti. Sono entrato in questo lavoro perché praticamente è lui che è entrato dentro di me. Perché quando ero piccolo mi sono trovato coinvolto come tanti via reggini dentro un baraccone. In un contesto di tenera infanzia, diciamo, perché avevo sei anni e mio padre lavorava da un carista e questo gioco da grandi nascosto con questo grigiume che c'era in periferia mi affascinò subito. Ero quasi sempre a disegnare. Il disegno è sempre facilitato e facilita per me tantissimo perché puoi già all'istante vedere qualcosa che hai in mente e metterlo subito in pratica. Se cosa farò da grande non lo so, però penso che sicuramente sarà una delle poche chance magari che ne so, c'è una grafia cinematografica. Oltre anche bello sarebbe una cosa che mette per introdurre scrivere libri per bandiera. Il mio obiettivo primario è quello di stupirmi. Tutte le volte mi rimane sempre qualcosa da dare in più. Forse è quella scintillina che ogni anno mi ridà un po' di carica, capito, nel senso del miglioramento della ricerca. dentro mi sento ancora di Avezziani.